Ciao a tutti, oggi vediamo queste scatoline. Si tratta di scatolette in plastica con coperchio trasparente, in questo caso un termoformato diviso in caselle. Si tratta di 10 box, dimensioni di ogni box 27x24 mm, altezza 14 e dimensioni totali della scatola 160x64 mm, altezza 17. Il coperchio è a cerniera, come avete visto, trasparente, mentre la base nera e la parte con i box bianca. È estraibile quindi si può anche utilizzare senza. Questa invece è una scatoletta sempre a scomparti, trasparente completamente, con il coperchio sempre a cerniera apribile. Si tratta di 18 caselle e come dimensioni 198x93 mm, altezza 22, ogni casella è 30x27 mm. È una plastica molto brillante e luminosa, ecco qui vediamo delle altre immagini. Possono essere utili queste scatoline per contenere minuterie, piccoli minerali, piccoli fossili, componenti elettronici, perline, piccoli oggetti da trasportare o da mettere in mostra. Io vi saluto, vi ringrazio, se vi interessano visitate il sito elettronicadidattica.com. Ciao a tutti, a presto!